Stracchino cop fiorfiore, questo l'ho preso come vedete al banco del taglio, l'ho trovato confezionato normalmente quindi ci accontentiamo magari, commentiamo forse un pochino di meno il confezionamento perché è molto rustico e artigianale. Apprendete sta colando via. E che è un buon segno. Vi confesso un'incognita, non so quando scade perché era avvolto in quella cosa e non c'era sopra la data di scadenza, ma lo vedo abbastanza cremoso. Cavolo, hanno dei migliori stracchini. Cremosità perfetta, 5. La sapidità è ottima, ma non perfetta qui. Diamo un 4. Il sapore è buonissimo. Ecco qui, ora sentiamo la perfezione, ma non la perfezione. Do un 4. Con 13 punti è uno stracchino davvero buono questo qui. Siamo a livelli per esempio del non-nonanni. Buono. Di questo qui sono contento. Buono. Buono.